Allora, c'è una bella sala, vi garantisco che sul Crepusco abbiamo le cose piene, però ammetto che il messaggio è molto educativo per lo stile di dibattito, noi stiamo costruendo un metodo, non è facile, vi garantisco perché è difficile avere un galateo intersoggettivo vincolante, però mi piace questo modo con cui i relatori interloquiscono, se gli studenti vogliono intervenire abbiamo ancora un piccolo spazio perché ci stiamo avviando alle conclusioni, prima di dare la parola a De Chiara che da due turni abbiamo, la prima volta era relatore e non poteva fare le conclusioni, dalla seconda volta noi ci teniamo molto che intervengano, per questo avevo chiamato anche Stella, detto il Canaro perché ci fa sempre un po' di interventi e di interdizione, l'abbiamo nascosto in mezzo agli studenti per evitare rappresaglie degli uomini telecom. Sul metodo volevo tornare un attimo, non sono così sicuro che quello che abbiamo scelto che è molto democratico sia decisamente produttivo, mi pare che fa parlare liberamente, ma vedo che fatichiamo a tirar fuori proposte, oggi miracolosamente in ogni panel qualche proposta è venuta e chiedo anche a De Chiara poi di tenere conto per le conclusioni, mi sembra che le proposte sono fra di loro meno incompatibili dell'esistente, meno insensate dell'esistente, quindi la bella frase che ha detto il nostro amico Orvietano, la RAI deve cambiare, soprattutto la crisi è di rappresentanza, trova forme di superamento quando noi superiamo la cultura del crepuscolo. Per rendere questo clima più produttivo vi dico quali sono le intenzioni per i prossimi appuntamenti, il prossimo è il pomeriggio del 22, dovrebbe essere anch'esso un mercoledì, quindi tra 15 giorni esatti, speriamo stavolta di avere il centro congressi, non l'ho verificato ma vorremmo sapere se è disponibile e il tema sarà la risposta dei pubblici all'offerta informativa di servizio pubblico, di norma questa roba dovrebbe avvenire prima ma abbiamo preferito in questa occasione partire dai contenuti perché la disputa sui contenuti è quella che viene percepita come pubblicamente più rilevante, anche se come ricercatori vi dico se voi guardate i dati di pubblico vi accorgete di quanto preciso impegnativo sia il discorso della crisi, ma lì si vede una perdita di fedeltà di interi pezzi di società, non solo i giovanissimi, sono anche fasce di giovani adulti che ormai sono relativamente disimpegnate rispetto ai canali pubblici, quindi è cambiato il mondo e lì lo si vede plasticamente, tutte le cose di cui parlavi della rete quando analizzi pubblici emergono in modo nitido, il relatore dovrebbe essere De Vescovi se ricordo bene ma in ogni caso su questo abbiamo anche dati di scuola come si dice quindi ci lavoriamo da tempo, nell'ultimo numero dei problemi di riformazione abbiamo pubblicato un attacco ai talk show che appunto è stato anche citato in Parlamento quando si è parlato di eliminare di liquidare alcuni talk show come parte di spuma puramente di bla bla come direbbe Beghelloni Allora l'innovazione di metodo, faccio presente al mio amico ex presidente di farmacia che oggi ha avuto anche il miracolo che hanno citato le farmacie e neanche sapessero che tu sei il nostro infaticabile ospite e non era stato ordinato, noi punteremo a fare qualche appuntamento più ristretto sui dati perché ci accorgiamo che appuntamenti così affollati tendono a favorire ovviamente i discorsi ultimi, una citazione gravesciana, i discorsi sull'universo, anzi esattamente diceva lui, pochi scendi sull'universo, l'editoriale dei giornali italiani di cui parlava Forcella Allora il sforzo che faremo di accompagnare a pallacorda eventi, cioè quella in cui ci vorrà il fiato di tante persone perché questa cosa ha senso perché siamo in tanti a parlare del cambiamento possibile e del cambiamento che c'è perché quello possibile è sostenibile proprio perché in qualche modo è già suffragato, fondato su dati di realtà empirici, non controvertibili perché vi garantisco che sui dati di pubblico, del servizio pubblico e quanto disputa abbiamo fatto sull'auditel però rispetto al passato la quota di realismo che c'è in queste raffigurazioni è incomparabile rispetto ai salotti qualitativi del passato, quindi vorremmo costruire questo doppio canale, piccoli momenti di approfondimento e sicuramente visto che ho visto in sala oltre a Noferi e ai suoi gruppi, i cibollini che non vedo ma anche a me che forse si è allontanata uno degli appuntamenti sarà sicuramente sul tormentato e un po' pedagogico tra media e formazione in età scolare perché abbiamo un accordo con la struttura della RAI per rilanciare Scuola Digitale che è una bellissima esperienza che ha un onore non l'unico al servizio pubblico. Un altro tema sarà sicuramente su come i giovani si comportano di fronte alle offerte multicanali, lì si scopre non solo la quantità della fuga che è sconvolgente e la RAI, mi dispiace dirlo, sembra rimuovere questi dati. Fa finta la fiction RAI più consapevole del giornalismo e dell'intrattenimento ha fatto uno sforzo di lavoro su questi dati al punto che nell'ultima stagione c'è stato un tasso di ringiovanimento del pubblico della fiction RAI che in passato avremmo considerato il pubblico più seduto, più adulto e il bilancio della fiction è più innovativo di quello del giornalismo che è più in crisi e dell'intrattenimento che è più ingiallito. Alcune di queste cose le destineremo a piccoli seminari scientifici in aule che consentano la discussione scientifica, qui sarebbe impossibile discutere dati come quelli che ci ha presentato oggi la ricercatrice dell'osservatore di Pavia, qui sono presentazioni quasi erga onest, lì invece abbiamo bisogno di una soglia di interattività, quindi il prossimo appuntamento avrà questa caratteristica. Il penultimo appuntamento sarà sulla governance e lo faremo sicuramente al centro congressi perché lì ci sarà un sacco di gente assetata di sapere e speriamo solo di sapere. E infine abbiamo in mente un evento finale, forse pensiamo a una location di qualche qualità come il Duomo di Orvieto ma non ho ancora avuto una risposta dal nuovo Vescovo di Orvieto. Abbiamo organizzato eventi culturali in Duomo e vi garantisco che è una gran ficata fare roba lì dentro, insomma lì vorremmo presentare i risultati finali e anche proposte scritte, anche alternative ovviamente, su pochi nodi essenziali, quelli che sono stati oggi citati sono più che sufficienti per alimentare la nostra riflessione e a questi accompagneremo anche quelli che immergeranno nelle prossime puntate.